Jingle Spot www.pronosticoonline.com rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa Rinforzare l'attacco, orfano di miroclose, è questo il primo obiettivo di lottituettare per la prossima sessione di mercato Visto l'addio del tedesco, la società bianco celeste ha l'obbligo di portare a Formello un centravanti che sappia garantire i gol del numero 11 Come riportato dalla Bild, l'ultimo nome finito nel mirino dei Capitolini sembra essere quello di Vedad Ibisevic, centravanti dell'Herta Berlino, accostato alla Lazio già in passato In questa stagione il bosniaco classe 84, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2017, ha messo a segno ben 10 reti in Bundesliga, contribuendo all'ottima stagione della squadra Nonostante le voci di mercato, Ibisevic si è comunque detto concentrato solamente sul finale di stagione Stiamo attraversando un bel momento, tutta la città è in fibrillazione e faremo in modo che resti così È chiaro che abbiamo fatto grandi cose in questa stagione, vedremo alla fine del campionato dove saremo Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto, inoltre Help Serie A, Help Premier League, Help Liga, Help Bundesliga Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti Partita per partita, per passare alla cassa Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni Scommettete sempre responsabilmente